Buonasera Buonasera Lei è la dottoressa Chiara ASMR Esatto Benvenuta nella mia spa Avevo un appuntamento ovviamente Si Lasci controllare i trattamenti Che dovrò eseguire su di lei Ecco qui Allora lei è qui per un trattamento rilassante Al viso E se vuole poi Posso immagiarla anche di un massaggio alle mani Giusto Ok Allora lei è truccata in questo momento Ho fatto un pochino di trucco Bene Facciamo una velocissima pulizia del viso Si è d'accordo? Ok Intanto Capito a rilassarsi E se vuole anche a chiudere gli occhi Ok Benissimo Nella mia spa è molto importante Ascoltare i suoni Che vari oggetti producono Perché pare che questo Provochi un brivido Sulla testa Esatto Direi poi Se l'ho sentito Ok 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 Può cerarsi leggermente da questa parte Perfetto Perfetto E' molto bella la borrazza E' molto bella la borrazza Degli avocado sopra Perfetto 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 Ora siamo un po' d'accordo, qui stasso attraverso ecco qui grazie mille allora quello che andrò a fare adesso sarà rinfrescargli un po' il viso con quest'acqua che è acqua fresca termale quindi ha moltissime proprietà benefiche per la sua pelle la bagnerò un po' ma poco poco permesso ok l'effetto dell'acqua fresca serve anche a riattivare la microcircolazione la microcircolazione come va? molto bene bene adesso le farò annusare una fragranza una fragranza rilassante è una miscela in realtà di oli essenziali chiudoglia sente? anche questo ha un effetto molto 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 benefico soprattutto sul suo umore a questo punto vorrei pettinarle un po' i capelli io vorrei usare questo pettino in legno però se lei preferisce ho anche una spazzola glielo faccio vedere mi dica lei questa è la spazzolina e questo è il pettino in legno quale preferisce? puoi scegliere lei ok allora usiamo il pettino lo preferisco che per i capelli? grazie li avete colorati un po'? un pochino ce li avevo rosa si è come se l'avessi già vista da qualche parte ma non ricordo anche lei sa molto familiare anche io in un'altra vita ho mai pensato di colorare i capelli non so per esempio di azzurro vorrei però mi freno un po' dopo il verde che torna il lupio giallo l'azzurro scarica un po' però mi piacerebbe l'azzurro scarica un po' l'azzurro scarica un po' l'azzurro scarica un po' l'azzurro scarica un po' qui anche un po' qui anche un po' anche un po' qui perfetto adesso chiudo gli occhi perché utilizzeremo questo pennello è un pennello dalle setole morbidissime può sentire se vuole molto morbido e questo servirà per farle un massaggio al viso ok 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 pronti? pronti? sì è un po' 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 Grazie a tutti. Possiamo darci del tuo, vedo che lei è molto giovane. Grazie. Ok, allora Chiara, libera la mente da ogni pensiero. Ogni volta che passo il pentadolo sulla tua fronte. Cancello le preoccupazioni della giornata e faccio spazio a pensieri felici. Sembra di capire che siamo in un anello di fidanzamento. Grazie. 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 Grazie.